Un pieno di gol per l'attacco del campo basso. La società rosso-blu ha ufficializzato nelle scorse ore l'ingaggio di Lorenzo Persichini, promettentissimo bomber classe 1999, che nella stagione 2021-2022 ha attirato su di sé l'attenzione di molti addetti ai lavori, timbrando il cartellino 18 volte in 34 presenze collezionate con la maglia del Nuova Florida. L'attaccante romano proviene dal Forlì ed è già a disposizione di Rosario Pergolizzi, che lo porterà in panchina domani nel big match contro la San Benedettese in scena all'Avico Stadium. Il DS Filipponi è scatenato, oltre a Persichini arrivano in rosso-blu anche il portiere classe 2005 Fabio Luciani, che contenderà la maglia da titolare ad Esposito, ed il centrocampista Zagaria Zdaigui. Ex giovanili della Roma, classe 2000, che già da qualche giorno è aggregato al gruppo a rinforzare la mediana. Ci sarà anche l'argentino Thomas Andres Grandis, classe 1995, di cui si dice un gran bene atteso nel capoluogo di regione. Non solo ingressi, ma anche a DI lasciano il lupo del Gado, Ioyo e Fravola non rientra nei piani di Pergolizzi, neanche l'attaccante Ripa, che ormai da tempo non frequenta più lo spogliatoio rosso-blu ed è in attesa di una nuova collocazione. Intanto domani al Romagnoli ci saranno non meno di 4000 spettatori, oltre 1000 ti feranno per la Samb. Mister Pergolizzi potrà schierare la migliore formazione con i recuperi di Maldonado e Nonni. Campobasso, San Benedettese sarà diretta da Alessio Marra della sezione di Manto.